Per la posa del mezzo scorpione posizioniamo i nostri polsi, le spalle e lentamente solleviamo le ginocchia nella posa del piccolo cane a testa in giù. Se riesci stira entrambe le gambe in adho mukha svanasa. Fletti appena le ginocchia, sposta il baricentro a sinistra, la gamba destra si solleva, va verso la linea mediana, il ginocchio sale verso l'ombelico creando questa spinta che ci arrotonda verso il cielo. Poi la gamba destra comincia a stirarsi verso l'alto e il tallone sinistro radicarsi a terra. Una volta che siamo arrivati in questa posizione senza aver aperto l'anca della gamba che è al cielo, andando sull'avampiede d'appoggio pieghiamo il ginocchio verso sinistra con le dita del piede attivo. Radichiamo di nuovo il tallone d'appoggio e facciamo attenzione che la testa passi oltre la spalla e guardi il piede che è al cielo. È importante non cadere in avanti ma avere la spinta all'indietro. Ardha Vrikshikashna. Per tornare avampiede, coccigi all'interno ed il ginocchio che passa dall'esterno e si riposiziona.